eccoci qua diciamo buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti cosa giochiamo stasera e che giorno è oggi devi parlare kento se non ti sentono che giorno è oggi è monday no oggi è friday e perché è friday perché oggi non sei andato dove perché non si va la nursery no kento non va la nursery il friday i bambini invece ci vanno sai allora vediamo se partiamo ci manca il cavo per il joypad qualche ragione non funziona wireless papà conclude caricarlo non è carico è carico però non si sa che è successo ok papà perché c'è quello quello è l'avviso che il joypad eh papà è quello è pirata papà quello è un porco di piatta è un pirata quello? si è quello che ti regalano le skin della scimmietta perché oggi è il capodanno cinese quest'anno è l'anno della mucca come fa la mucca? e allora andiamo a vedere se ci piace te vuoi solo quello rosso vero? si è bello ma vediamo se c'è quello della mucca se ce l'hanno regalato che invece ce lo regalavano ecco qua è questo qua è questo e a te non piace questo? no a me non piace è rosso guarda non ti piace la scimmietta? no a me piace questa cosa rosso niente? non usare neanche questa skin? niente? niente? così lo vuoi? così? si boring papà io lo voglio cambiarlo va bene lo raccino così ok? ascolta amore se vuoi parlare non vuoi parlare con le mani in bocca sennò non si capisce non si capisce come qua? eh con le mani in bocca non si capisce niente dopo ti faccio sentire questa è un questo rumore è qua il microfono e questo è questo? questo è il microfono devi parlare qua ciao allora facciamo stasera vinciamo? sì dobbiamo vincere dobbiamo vincere stasera è ora è troppo tempo che giochiamo non vinciamo la corona dobbiamo vincere la corona stasera ok? ah è difficile questo qua no dai quello con la volpe no? papà va bravo questo ci proviamo via papà c'è un volpe qua quello volpe? si ha un volgeist ha un volgeist ha un volgeist si ha un giocattolo ha un giocattolo ha un giocattolo? va bene andiamo vincere allora dai papà dimmi auguro ti sai tale siamo credenti le giuste mani se papà non ci vede niente copri tutto lo schermo lì ci ci? no eccoci qua siamo in su papà non ci vede Sì E' male Infatti non ho capito perché fanno questa parte in mezzo che non conviene a nessuno Io ho sentito che bravo Ma le copierà qui Sì Sì, ho visto Oh, ho sentito Riccardo, salutiamo Zio Riccardo? Ciao Ciao Zio Riccardo Ehi Ciao Zio Riccardo, io lo tc Ciao Zio Riccardo Ma io non ci ho detto L'hai già detto? Scusa, è vero Ci sono migliaia di persone che ci stanno guardando Allora bisogna dire ciao Zio Riccardo Ma papà Perché hai detto Pia? Zio Riccardo vuole parlare con papà Ma non dice mai quando Allora gli ha detto Dimmi quando vuoi chiamare Che ci sentiamo Eh? Papà perché vuole con le api Le api? Sì Oh Papà le api non sono difficili Non sono difficili Quali sono? Ah quello con le Ma quello è difficilissimo Quello delle api Questa è quella delle eliche È difficile È difficile? No Vedi che no Bisogna Bisogna veramente Stare solo attenti E si va E noi siamo attenti Vero? Sì Vero Kento Non si parla con la boccatina Non si parla con la boccatina Vai via Vai via Puzzolente Vai via Puzzolente 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 Andalo Non esci più la qua adesso Papà quello è un Puzzolente Puzzolente Guarda le mani se ce la facciamo ancora? nessuno ha qualificato questo capo? vogliamo vincere! Eh si Vitt for guy, fryoung si è ipatici Papa, p Kabul, vedo tutto a Dinstra papa siamo vedati tutto a Dinstra sfugli milan buon male non siamo vedati sì sì anche quella terra ha vinto hai visto? sei tu fuori impegnato è importante questo cosa sta facendo? niente non vediamo il pinguino con le alie questo pinguino con le alie no vinto no papà siamo i primi ciao andiamo a vinto anche andiamo al terzo round adesso Kent sì perché andiamo a fare un primo round è un secondo round papà adesso andiamo a fare il terzo round 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 papà che cosa hai detto? cosa ti dice la nursery? round round road and rock rock and roll rock and roll papà hey Tom mi canti la canzone è quella dei Ramones come fa la canzone di Spider-Man come fa la canzone di Spider-Man che ti piace? hey ho let's go come fa la canzone di Spider-Man ah quella delle code è questo è quella delle code bisogna rubare la presa yeah abbiamo la coda adesso no ce l'ha ripresa lui complimenti no è stato bravo l'ha persa e l'ha ripresa subito quella della coda sì abbiamo presa abbiamo la coda 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 adesso dobbiamo scappare dobbiamo scappare che non ci prendano se la finisce malissimo oh no siamo caduti siamo caduti perché siamo caduti? eh perché siamo caduti con i forgai o potremmo dire tutti i forgai tutti i forgai vai via vai via brutto cattivo brutto cattivo si me lo vale che non aspetto no no l'abbiamo ripresa eh sì questa volta no 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 chi l'ha presa? 10 secondi no non ci credo che vediamo così no 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 ma pericato no 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 peccato 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 se beppe sentisse te che canti la canzone di spiderman ti farebbe un bel regalo secondo me perché beppe non si guarda adesso papà ci sono i cracker? ci sono chi? i cracker si vogliamo mangiare? si no no non ci sono potete mangiare? non ci sono non ci sono papà abbiamo comprato adesso allora si si dopo ok non si si perdiamo il terzo round i dettagli però ci sono ma ci sono il problema è che facciamo questo che non si papà questo è ancora questo della volpe E' quello sugi, Rao. Papà, facciamo con la laita dentro, Rao. Questa. Che cosa fa adesso? Abbiamo vinto. Abbiamo già insieme alla carta. Papà, con cui dovete vincere? Alcuni diversi. C'è cose in mezzo diversi. Un po' unico ci sono i... Si. Si. Si, ci sono i sangini. Bye bye. Papà, dove l'ha passata? Ah, sa? Si. Se lo dici, si vede in casa dove l'ha passata? sei capito, sei capito, dove è la patata? dove è la patata che cazzo? sei che la faccia che andate lui? papà, io non so quello con le carte papà, io non so che è scura vedo che è buono papà, perché c'è un mese? ma, 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 perché mi ha spinto quello dietro? mamma, no allora, vediamo tutto questo il colpo di un imbecile perché è un imbecile? perché un imbecile ci ha buttato giù al colpo che stai davanti ai primi non so, non so pensa a te papà, quello? eliminato papà papà, quello è diverso no, diverso non ho capito perché quello che il primo salto abbiamo fatto, quello dietro ci ha trattenuto così non siamo riusciti a saltare bene ma non ho capito perché deve farlo ma siamo riusciti a saltare bene ma siamo riusciti a saltare bene ma siamo riusciti a saltare bene anche noi dispettosi adesso facciamo anche noi dispettosi adesso facciamo anche noi dispettosi potrebbe essere dispettosi dispettosi papà papà eh non potremmo scegliere non potremmo non potremmo scegliere non potremmo scegliere con il culo del tetto non c'è da e poi la corona adesso proviamo ok? via non 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 No, 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 no. No, 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 no. Sì, papà, c'è un po' di giù? possiamo vincere? sì! papà, dobbiamo vincere! dobbiamo vincere? sì! zi riccardo ci sta ancora guardando? sì! è difficile! oh io voglio dire zi riccardo che sono due settimane che fai la facca nel toilet adesso vieni loro bravissimi! sì? sì! qualcosa di saltare e vincere e cadere? patato! zi riccardo dice patato! ma questo è quello dei cerchi? come non sei patato? sai che sei patato te! oh no! non siamo patati! abbiamo patato ogni noi! nooo! questa volta noi siamo patati! sì! calciare! nooo! nooo! sì! sì 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 sì! ocula dove ocula dove ocula dove! nooo! nooo! no no no! non ce la faremo mai! papà è veramente scarso sui cerchi veramente scusa kento abbiamo a prendere almeno uno l'argento adesso hai missed it come bambini grandi lo zio muova un abbraccione baci e abbracci saluti di riccari ci buonanotte di riccardo dillo bene dai no più contento buonanotte di riccardo un bacino e lo mandi mua mua kento ciao e kento è triste che vai via va bene ti mandi i bacini sotto anche kento mandi i bacini ciccino va benissimo dici di riccardo continui a fare tanti bacini da tanti riccardo guarda piccacino buonanotte di riccardo papà miamo finito papà miamo finito perché non sono mai fai perché non sono ancora buonanotte di riccardo e 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 sentiamoci che è importante e riccardo chiamano te 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 e perché siamo caduti non siamo caduti e devo vedere ce ne posso niente papà papà questa volta facciamo quella girena tondo ok vabbè vabbè arriva a caso amore non possiamo decidere non possiamo decidere noi papà qual sta? si papà quale siamo? le rosse chiamano non che sembrito chiamano ho necessità che 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 attraverso che 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 guardate un taggiatore abbiamo fatto il giallo papà facciamo i gialli la rossa papà le blu per fare rossi papà papà voi i gialli i gialli i gialli i gialli papà stavo i rossa perchè abbiamo sceso i rossa papà i gialli i gialli i gialli i gialli buonasera mike buonasera mike buonasera mike papà tac sol 2 si no sto chiedendo o è a near autonoma non sono sicuro ci devi dire mike questo è difficile a crento si che è difficile è difficilissimo questo è il terzo è il terzo terzo round adesso ce la faremo ci 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 so you get this thing and you say the things twice, but very fast you don't get it, not the first time, not even the second time ijiwaru, ok, ijiwaru ha dispettosi ijiwaru ha dispettosi oh no 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 no, no, he was focking me i was trying to get away and he was focking me i'm dead papa, perchè se non veda tutto l'acqua perchè si, dispeccio, ijiwaru ijiaguar ijiwari ijiwari ento pipi break go 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 ok, kent va a fare la pipi, papa continua intanto si si si, dobbiamo vincere adesso dobbiamo vincere dobbiamo vincere il pipi break l'hai fatto il pipi break Mike te il pipi il pipi ogni 30 minuti mi raccomando quelle quattro gocce che la prostata ormai alla nostra età va va un po' con la sua andatura il pipi il pipi il pipi il pipi il pipi non lo ripi lo ricordo lontano noi, adesso viviamo 80 anni la prostata ricordo lontana infatti mi va in mente il Metodo Kominsky quella serie tv con Michael Douglas su Netflix per tutta la prima stagione che ha problemi di fishar, che va in un locale serale c'è un tipo a fianco che fisha con questa forza della natura, si è un po' più il cetico, tipo pompiere, che gli fa a desiderare la mia età, mia near-tonoma, stavo guardando un peso, dopo farò serata, overwatch, poi ragazzi penso fino a un po' tardino, finchè riesco a giocare, ancora come prima, mannaggia, io li odio questi, questo è il momento come prima, è divertente, è divertente, dice ormai com'era la pasta di papà, è buona, è buona, per quella di papà era più piccante, per quello non era piccante, è più, ma ti sei asciugato le mani, tutte bagnate sono, guardate le mani, le mani sono so spettate, io mi metto a canalizzare il pc, che domani monto quello nuovo, e non metterlo incinto però, cosa hai preso di pc, tutto quanto o solo alcune parti, devi soltanto togli il case e togli via l'immagine di una scheda madre, papà, perché il gocola sta facendo, per il mac qua, che sei emozionato, pessima, eh davvero, prima parliamo di pasta, da poi non mi lasciate fare queste battute, va bene dai, papà questa è diversa, è diversa, è la roste, prima che andavo fin, prima che, tutto è cambiato, cosa è stata di, prima che andavo fatta, sai te no in te, no no, li ho da old bastards, da old bastards, chill, ok, ho tutto il tempo, papà, credo perché il gocola è diversa, perché il gocola è diverso, perché il gocola è diverso, sì, perché è diverso, perché è diverso, a farlo, oh, vai, abbiamo vinto, abbiamo vinto, Ryzen 7, minchia, hai spiti i soldi, bene, tutto bene, papà, vede che con il gocola l'avevo vinta, che con l'altra non vinto? no, quella l'altra, con l'altra no, sì, ma quella l'altra, l'altro! quello che noi abbiamo vinto! poi la 1080 è ottima! papà c'è un patata! si questa qua papà non è bravo te lo dico subito! papà c'è un patata! papà qua è scherzissimo! più che altro sono tutti dei birichini! papà qualcuno deve dare la scatola giusto papà! si ma mi rompono i zebedei! papà cosa vuoi dire il zebedei? tipo cin cin! si si! maledetti! papà qua ho scato la rampa! si non so come si può! papà ma possiamo alzare le vostre mani! si eh! guarda che cancro quello sotto! mamma mia! sta spostando tutto quanto il blocco apposta! grazie a tutti! grazie ci sono tutti stai l'amogla! c'è un uomo che è un uomo! ecco che ci sono tutti stai davanti! stai davanti! stai davanti? stai perla! non voglio insegnarci tutte le cose fai i birichini ah li mortacci loro cin 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 è quello che abbiamo noi maschietti papà adesso non siamo ah si devo cancellare eh no ma non giustiamo questa qua papà facciamo si ho dovuto rimuovere quella parola là del mio vocabolario perché? papà perché cosa siamo? non siamo niente noi Kent siamo tutti eliminati per colpa di questi maledetti papà 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 e siamo niente papà Devo fermarmi? Sì, è quello che poi deve dare. Sto shakerando Kento sul ginocchio, sulla gambe. Fermati. Fermati. Come si dice giapponese? Fermati. Come dice la mamma? Fermati. Non mi piace. Fermati. Mamma. Non vuole. Fermate. Stop. Stop? Sì. Fermati. Ok, cominciamo allora. È l'ultimo. È l'ultimo. Come dice la mamma? Saigo. Saigo? Oshimai vuol dire basta praticamente. Se vuol dire basta dici Oshimai. Giusto? Bravo. Sì. E se vuol dire... Pizza. No, pizza no. Se vuol dire... Non capisco. In giapponese come si dice? Baccaranai. Baccaranai? Ok. E in inglese? I don't know. I don't know. Italiano? Non lo so. No, lecce. Papa? Di mi. Eee, cominciare... In inglese come si dice? D'ol! In giapponese? Adjime. 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 Ad è divertente facciamo ancora questa faccia come si dice in italiano cosa ciao luca ciao luca ciao luca come si dice in italiano mettila o shimai per basta non so quale no 43 43 io non so 43 4 e 3 4 e 6 che cosa fa no 4 e 3 4 più 3 fa 7 ma 4 e 3 vicini sono un 43 papà dimmi 4 vicini e 3 vicini che cosa fa insieme così domande a caso piccolo kodama impara tre lingue da grande ma le sa già le tre lingue mike se rimasti indietro guarda non è che siamo i dinosauri piccolo kodama piccolo 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 2回目? 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 3回目? Am De los testis !!! No! Di schwyk!! Ok. Dieta, papà! Não, porque... Quem 완 выходou? team on picked up? Tia na 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 na... papà papà, io ho visto l'Hall Dog hai visto l'Hall Dog? ok papà, perché? perché è divertente? papà, questa cosa papà? quella è questa? push o snowball? no, bisogna fare le palle di neve più grandi possibili quale passare sulla lì? papà? papà, facciamo facciamo il blu noi dai se vuoi blu? ma tu vuoi essere rossi? no, no, siamo buoni siamo nella squadra blu siamo rossi dentro blu fuori dobbiamo fare papà spai vuoi se vuoi dar come diciamo noi? stai stai è questo la neve? ah, sì allora è un Dog con uno, è questo? sì, ha un Dog papà, c'è anche un papà, c'è anche un papà, c'è anche una ragione, papà Papa c'è anche arancione Papa Papa, quello è rosso, sai? Lullo sia mai blu Sì, ma l'aiutano, stai aiutando Papa, l'aiutano, stai aiutando No, stai aiutando, stai aiutando Papa, io c'è arancione Papa, guarda, guarda Ah, mi ha detto giallo Qu'abbiamo ancora Frove, questi gialli ciao ilvise ciao ilvise no ciao ilvise ciao ilvise papà cosa c'è? papà qua stiamo salutando stiamo salutando ah si questa è l'ultima non è l'ultima ultimissima dobbiamo vincere dobbiamo vincere tonight is the night ma perché hai detto così papà? non posso dirlo in inglese? alvisio si c'è il visio io leggo alvisio scusate ha sbagliato a scrivere il nick non ti credo Mike ha sbagliato cosa fai il marito? io non ti credo Mike ha sbagliato cosa c'è? buon patato si mangia la guanta ha sbagliato ha sbagliato è giù questa è l'ultima questa è l'ultima mi sa che vincere un panino con la salsiccia ok? ti piace la salsiccia? si la salsiccia con le? papà io voglio voglio mangiare hot dog hot dog? si con sopra ketchup cari ketchup Mike è una brutta persona ti do ragione papà io voglio hot dog con ketchup con cari ketchup cari ketchup addirittura è proprio specifico anche la ketchup mamma mia quina volta questa è l'ultima? un anno fa non è stato papà questa volta la abbiamo vinta questa volta la ho vinta questa volta la ho vinta questa volta qua non te la fa proprio questa cazzo si è così forte uuuuh rischio 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 ma tanto cielo brutti antipatici troia 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 maledetti nooo no kento non si dice quello è una brutta parola papà chiamo sinistra sinistra ok papà colonna adesso adesso luca ho pallito nooo papà 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 questo è a destra no questo è sinistra kento quella l'altra è a destra quella l'altra è a destra quella l'altra è a destra sto gioco qua sto facendo insidiale tutte le parole a kento no kento no 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 maledetti sii kento non si dice veramente eh no va bravo ma fai ma fai ma fai ma fai ma fai no perché sai fai ma fai ma fai ma fai ma fai ma come faccio a fare il focus qua dimmelo ma fai ma fai ma fai fai fermo sai mamma mia ma fai andiamo finito si ma Luca il vocabolario italiano non è così espanso qua se cominciamo a inserire queste parole ho finito ancora questo numero ma se va a scuola dire queste cose qua nessuno lo capisce per cui va bene papà chi cosa fa tre vinci e quattro vinci ventisette eh cinque e quattro nove papà dimmi hai sbagliato la numero hai fatto il numero? hai fatto la numero sbagliata eh scusa papà stasera c'era un prosecco e un cabernet papà questo è diverso eh sì ci sono le eliche cattive papà papà che hai detto amiche cattive eh che non vuoi di usare ma c'è non finisce lo che faccio no lascia stare ok ok no 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 no! facciamo andiamo a sinistra dai e che te lo facciamo adesso? facciamo tutto adesso via via bella se ti passi il primo non vuol dire che puoi passare il secondo cosa che sarebbe questa cosa non sa?! le eliche così le eliche così cattive papà ci sono le eliche papà queste eliche stanno in ventaggio lento questi sono quelli che spingono e non è che aiutano la causa papà perchè siamo arancioni? non siamo arancioni siamo rossi andiamo allora quel bambino da grande andrà in Giappone insegnerà le bestemmie anche nel sollevante anche da grande le insegnerà anche prima questo sto leggendo i messaggi dei nostri amici facciamo la character anche un blackboard non serve male però rischia di rimanere traumatizzato facciamo la seconda round ok a te piace Fall Guys e poi quale altri giochi ti piace giocare con papà? qual è l'altro gioco che ti piace? Fall Guys, Mario Kart e Spider-Man e Spider-Man Mario Kart e Spider-Man papà io voglio giocare Fall Guys, Mario Kart e Spider-Man ok e quale personaggio gioca con Mario Kart questo è difficile questo è difficile con chi giochi a Mario Kart? papà no che personaggio usi? di Mario? no io uso gli assi papà con quello devi prendere la corona su 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 ce la faremo noi questo è quello che non ho mai mai avuto qui no 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 non ti puoi prendere ok ok maledì maledizione ha eliminato così va bene niente che abbiamo finito la vesta sire però abbiamo giocato bene no sì spyro aspetta qua vanno avanti i giochi spiderman no non è spiderman spiderman bene di lucky tale per i bimbi lucky tale spiderman lucky tale e rayman legends anche qui anche un zeldino magari links awakening abbiamo giocato a super mario odyssey e però si annoiava sinceramente a lui piace giocare super mario kart perché può giocare vuoi mettere un'impostazione che che non cade mai e che non serve schiacciare l'acceleratore super mario kart papà lord è super mario kart papà tecchi è mario kart no super mario kart sì sì la switch è perfetta infatti adesso è il momento della switch è proprietà di mia moglie perché gioca a pokemon e animal crossing però prevedo fra due anni animale sparisce dalle sue mani e finisce nelle mani di tento ascolta adesso tu vai a fare la nanna eh salutiamo veloce veloce in camera ok aspetta 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 ci facciamo vedere ci facciamo vedere così dai vediamo se si va va alla camera vai camera vai camera non capisco tutto questo che so eh sì ci siamo saluta a tutti dai ciao qua 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 la telecamera ciao ciao come dici il giapponese bye 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 in giapponese bye bye si dice bye bye come dici buonanotte in giapponese? non fai la papera in giapponese come dice buonanotte la mamma? dici ohayo? no ohayo ohayo cosa che è? papà isperdi vuoi vedere? papà la tua età si va sulla politia ahando ahah Hast hell hide عند ha paw bad hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahaha fasta Gioia! Sì, ho visto te sì! Dici buonanotte? Buonanotte! In giapponese come dici buonanotte? Ayyo! No, Ayyo! Buongiorno! Sono il proprio cofino del tutto a secco! Oyasumi! Ok, bye bye! Bye bye! Oyasumi, oyasumi! Buonanotte Elvise, buonanotte Mike! Buonanotte papà! Ah, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? buonanotte Mike, Luca ci vediamo tra poco, saluto a tutti, salutiamo anche il zio Riccardo che è passato ciao a tutti, ciao papà, tu vai a letto, papà vai al pub, ciao buonanotte ciao ciao ciao